Oggi sono trovato a questa cerimonia particolarmente sentita, particolarmente partecipata proprio in rappresentanza del comune latio di Marco Callegaro che è appunto Cavello, su delega appunto del mio sindaco Diego Girotto che appunto ha voluto fortemente fin dal suo insediamento lasciare in memoria ovviamente di Marco Callegaro proprio nel territorio natio Cavello, istituendo fin dai primi anni successivi al suo insediamento, come detto poc'anzi, un cippo in memoria di questo caduto. Oggi le emozioni provate sono sicuramente indescrivibili, sentire un padre raccontare appunto la storia tra l'altro anche tragica ovviamente del figlio, suscita in me da figlio ovviamente un sentimento particolarmente forte. Marino sicuramente sta portando avanti una battaglia, una battaglia sua, una battaglia personale ma che è una battaglia che la comunità di Cavello si sente di portare avanti insieme a lui proprio perché lì non è caduto solamente un figlio ma è caduto un esservitore della patria ed è il motivo per cui Cavello ha voluto fondamentalmente lasciare un cippo alla memoria di Marco Callegaro proprio perché si ritiene, si è convinti che solo ed esclusivamente attraverso il ricordo è possibile rendere omaggio alla memoria di chi se n'è andato e come nel caso di Marco di chi se n'è andato come detto prima servendo la patria e portando al petto di tricolore quindi è un'emozione indescrivibile quella di oggi.